Tecnologia d'avanguardia applicata all'industria Affidabilità e durata sono caratteristiche imprescindibili sui prodotti Linde. Per garantire che la tecnologia d'avanguardia applicata ai carrelli Linde sia sempre disponibile anche sul lungo termine, sono stati condotti testi continuativi di durata durante i processi di design e sviluppo. Sono stati effettuati anche calcoli per il consumo energetico e simulazioni operative. Grazie ad un preciso calcolo delle forze dinamiche che intervengono in particolare durante i cicli di stoccaggio, è stata ottimizzata la stabilità del montante anche alle grandi altezze. Grazie ad un'analisi approfondita dei materiali, la geometria dei componenti del telaio può essere sviluppata per assicurare un'effettiva dissipazione delle forze dinamiche. Le superfici di scorrimento del carro retratile sono temperate e subiscono speciali trattamenti per utilizzi gravosi. Il risultato? Nessuna manutenzione per tutta la durata del carrello. Il sedile operatore subisce continui carichi durante il lavoro quotidiano, di conseguenza le piastre di supporto del sedile devono essere realizzate per assorbire efficacemente le forze, garantendo così una maggior durata. Il flusso delle forze può variare in funzione del tipo di cabina che viene montata sul retratile. La forma ottimale e la disposizione dei singoli componenti, come per esempio la cabina per celle fergorifere, deve essere sviluppata e realizzata per impieghi gravosi. Tecnologia d'avanguardia all'inde. Design duraturo. Grazie a tutti.